Sì, vi chiamo. E' un po' rispire un po' nello. Anche le montagne. Sì, sì. Non lo metto in dubbio, però... Posso fare ancora un video con questa? Eh, 8 minuti, ah, ancora. Sì, Tommy, sì, Tommy. Bravo, Tommy, bravo. Sì, Thomas. Vai, monta, vai, monta, vai, monta, Tommy. Qui si monta, qui si monta. Qui si monta. Sì, cazzo, sì. Sì, Tommy, dai. Sì, sì, Tommy. Sì, video cane, sì. Sì, forza Dio. Sì, 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 Grazie a tutti